Google è stato un grande innovatore, tanto e forse anche più di Tostoi o di Tostoievski. Ha innovato e creato un genere che è quello della satira e comunque la rappresentazione romanzesca del potere di Sacrandolo. Ha anticipato una tendenza che poi sarà di Bulgerov molti più anni dopo e soprattutto quella della letteratura mitteleuropea, che ci ha lasciato grandi ritratti. Con Google nasce e rinasce il genere della satira che è figlio della letteratura latina, quella di Orazio, di Giovenale e delle satire, ma in un modo del tutto nuovo, un modo anche poetico e profetico che farà strada.